Il giovane Manuel Bortuzzo potrebbe aver bestemmiato nella casa del grande fratello Vip. Prosegue il percorso dei nostri amati Vipponi nella casa del grande fratello Vip e per uno di loro i fananno, rivolto delle accuse molto importanti. Stiamo parlando del giovanissimo Manuel Bortuzzo che, secondo alcuni fan, si sarebbe lasciato andare a qualche uscita infelice pronunciando una bestemmia. Al momento non ci sono, o meglio, non sono stati diffusi sul web. Filmati e video che testimoniano quanto riportato da alcuni fan, ma si vocifera che il giovane avrebbe imprecato, intorno a mezzanotte e mezza, in compagnia di altri concorrenti, durante il momento di svago e gioco con i gavettoni con i palloncini. Manuel si è sempre contraddistinto nella casa di Cinecittà, per il suo fare ed il suo modo di parlare e comportarsi, e ci sembra veramente assurdo che possa aver pronunciato. Determinate parole, ma, ovviamente, potrebbe capitare ad ogni concorrente della casa del grande fratello Vip.